Ieri sera durante il turno di servizio notturno alle ore 0030 circa la sala operativa ci inviava in via Garibaldi, in quanto era la presenza di un operaio colpito da infortuni sul lavoro. E immediatamente giunti sul posto abbiamo avuto subito la sensazione, io e il mio collega componente alla pattuglia, che la situazione era veramente pericolosa ed c'era veramente un pericolo di vita del malcapitato. Pertanto il collega ha, diciamo, disperso la folla di astanti che circondava il malcapitato, creando le condizioni necessarie per la salvaguardia della sua incolumità e io, nonostante vi era presente anche dell'acqua, senza esitare, mi sono subito prodigato nel praticare il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi che, diciamo, sono stati abbastanza celeri. È stata, diciamo, un'esperienza abbastanza toccante dal punto di vista soprattutto umano e anche psicologico, in quanto, diciamo, è stata fondamentale la determinazione, la prontezza dei riflessi, in quanto ho subito percepito che vi era in pericolo una vita umana e quindi anche grazie e soprattutto ai corsi frequentati qui in questura di rianimazione, diciamo, ho messo in atto, ho messo in pratica quello che ho appreso da questi corsi. Ho saputo anche poco fa delle situazioni stabili della degenza e dell'animazione dell'operaio e spero vivamente che si possa riprendere al più presto, li faccio il mio augurio più sincero di ripresa e spero anche che sicuramente quando si riprenderà spero di poterli incontrare e di poterli stringere la mano e di poterci parlare, insomma, e raccontarci quello che è successo.